Home studio o studio professionale? Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato di questo in una live che tra l'altro è stata ripubblicata di recente per problemi di audio e adesso cerchiamo di ragionare in maniera più schematica ed incisiva se vogliamo sul tema home studio o professional studio. Quindi se fare tutto da soli e creare il proprio ambiente di lavoro in casa o quant'altro oppure rivolgersi a dei professionisti, a ingegneri del suono e strutture già organizzate. Non si tratta di decidere cosa sia migliore o peggiore, non si tratta di trovare la strada giusta per chiunque ma piuttosto di trovare le giuste domande da farsi e capire in base alla propria personalità e anche alle condizioni presenti quale sia la strada da seguire. Alla fine dirò qual è la mia opinione ma se segui il canale forse già lo sai da un po' di tempo a questa parte. Prima di tutto c'è da considerare l'ambiente. Io sconsiglio sempre di farsi lo studio in camera perché è vero che da un lato potresti essere colto dall'ispirazione mentre dormi e ti basta alzarti e metterti al computer. Però l'idea di andare in un altro ambiente la vedo più positiva perché quando vai in studio o vai al tuo studio o al tuo computer hai già l'idea di metterti a fare qualcosa e magari metterti di impegno per un qualcosa di specifico. Se l'ambiente dove sei sempre è anche quello dove crea il tuo studio molto probabilmente è difficile darsi una regolarità e darsi anche un metodo di lavoro che sia efficace. Non è detto che sia così per tutti, ci sono anche validi esempi del contrario, però la prima cosa è avere almeno una stanza a disposizione che sia soltanto per quel tipo di lavoro. Poi ovviamente bisogna considerare dove si abita e perché. Se sei in un condominio è difficile e tu possa avere tutto trattato in modo da non disturbare nessuno o comunque sei suscettibile agli orari nel quale si può fare musica in quelli no. E poi bisogna vedere la struttura dell'edificio. Ci sono magari edifici con delle mura troppo poco spesse o al contrario con delle mura troppo spesse, finestre, avere la strada vicino quindi avere l'autobus che che passa proprio mentre deve registrare e quant'altro. Ecco le condizioni nel quale si vive sicuramente sono determinanti se decidere se fare un certo tipo di lavoro per crearsi un proprio studio oppure no. Se hai una cantina tutta insonorizzata di per sé molto probabilmente sei già più avvantaggiato perché è vero che certi album, certe tracce sono state registrate in casa e magari anche in giovane età da parte di chi le ha fatte. Bisogna vedere di che casa si tratti. Così come è anche vero che tantissime grandi band si sono fatte il loro studio però magari si sono fatte la villa nel bosco per fare la loro musica. Ecco è un discorso un po' diverso. Se hai a disposizione un ambiente adatto e può non essere troppo costoso avere degli accorgimenti per poterci lavorare come se fosse uno studio allora è già un primo passo altrimenti bisogna trovare delle soluzioni come può essere andare in uno studio oppure affittare una stanza da rendere tale. Metto prima l'ambiente di riferimento perché è una condizione determinante però si poteva mettere fin dall'inizio la tua attitudine ovvero che tipo di persona sei, che tipo di personalità sei e questo incide su tanti aspetti. Prima di tutto se ti piace fare tutto da solo o se ti piace collaborare. Se sei uno che si impara le cose da solo quindi una tendenza da autodidatta o seppure preferisci imparare dagli altri. Questo tipo di personalità inevitabilmente condiziona il tuo approccio alla musica e alla produzione. Se sei uno che gli piace acquistare dei macchinari e mettersi lì ad impararli spippolare come si dice a Firenze insomma provare mappare se hai queste caratteristiche e queste attitudini allora puoi affrontare la strada della creazione del tuo home studio o del prendersi in carico delle attrezzature. Se sei uno che ha un po' difficoltà in questo che non gli piace programmare allora forse è meglio rivolgersi ad una struttura già organizzata. Un aspetto non secondario riguarda quello economico ovvero l'investimento. è utile spendere per pagare qualcuno o qualcos'altro oppure può essere utile investire per te? Dipende qui si apre un mondo perché da un lato ci sono attrezzature molto costose e c'è anche l'idea del perfezionismo che è il nostro grande nemico del fatto che ti manchi sempre qualcosa. Dovrai comprare il nuovo synth, dovrai comprare il compressore, dovrai comprare tutte le macchine analogiche e quant'altro. Quindi risulta veramente dispendioso farsi uno studio come si deve. Di contro può essere dispendioso dover pagare la giornata, il tecnico e quant'altro. E allora bisogna capire anche in questo caso qual è la tua attitudine. Se non sei uno a cui piace noleggiare le cose ma preferisci averle molto probabilmente sarai orientato sull'home studio perché prendi i tuoi oggetti piano piano quando possibile che sono tuoi, li utilizzi te e li trovi sempre come devono essere per il tuo gusto. Però ci può essere anche coloro ai quali piace noleggiare le cose perché si trovano il programma sempre aggiornato, la manutenzione fatta senza dover sbattersi ore e ore, il computer che non ci passi le settimane a formatarlo e così via senza doverti accollare tutto l'investimento e anche proprio tutto il tempo per fare le cose come si deve. E quindi poter avere a che fare con macchine diverse, sempre nuove e così, se sei di quel tipo di persona può essere più utile allora andare in uno studio. Oppure anche fare un semplice conto economico se un brano mi costa che ne so 200 euro con 2000 euro ne faccio 10 non ho bisogno di acquistare niente, altrimenti con 2000 euro cosa ci compro? Però quello che ci compri lo puoi usare anche per 100 brani e così via. Sono modi di concepire l'economia che non ce n'è uno giusto, non ho sbagliato, semplicemente dipende dal tuo modo di gestire l'investimento perché le volte è inutile affannarsi per comprare quella macchina che sei convinto che ti manchi quando invece puoi andare da qualcuno che ce l'ha già e magari qualcuno che la sa usare anche molto meglio di quello che riusciresti te. Ovviamente in questo caso una visione di insieme di lungo periodo può essere fondamentale per capire quale sia la scelta giusta e anche soprattutto il fatto di darsi un impegno e una scadenza. Se sei uno che ha bisogno di altre persone che ti impongano le scadenze per finire qualcosa è un altro degli elementi utili per decidere. Magari fai tutto da solo e riesci a passarci le notate se hai un'uscita programmata. Oppure se invece io prenoto lo studio tutte le settimane, in quel giorno alla settimana qualcosa riesci a fare proprio perché ti sei preso l'impegno, stai lì le tue ore, hai un tempo limitato e magari è utile tornare a casa con qualcosa di concreto. Anche questa attitudine deve essere considerata nel fare la propria scelta. Quando abbiamo fatto la live non avevo ancora visto il video che riporto in descrizione ovvero di sound on sound che sound on sound è una rivista storica inglese che parla appunto di attrezzature, studi di registrazione e quant'altro. E lì si confrontano proprio da un lato il fautore dell'home studio e dall'altro il fautore del professional studio. A di là dello humor inglese che io trovo fantastico poi c'è anche la posizione di sound on sound che ovviamente spinge a far iscrivere le persone alla propria newsletter e alla propria rivista. Però c'è un aspetto molto interessante che viene fuori da questo video ovvero sull'approccio a imparare. Nel definire il tipo di persona che sei bisogna anche capire dov'è che riesci ad imparare di più o meglio perché uno degli elementi a favore del rivolgersi allo studio è proprio dato dall'imparare da chi lavora e magari ha una sua esperienza. Se sei una persona che gli piace guardarsi tutorial, fare tutto da solo, imparare, leggere, guardare continuamente video, aggiornamento e quant'altro molto probabilmente sei più portato per la strada dell'home studio. Se sei uno invece che gli piace vedere sul campo, vedere le scelte di persone con esperienza e magari vedere il proprio brano crescere e prendere forma mentre ci lavorano altri, allora la strada dello studio professionale risulta ottima per te perché è uno dei momenti di massima formazione possibile. Non c'è cosa migliore che vedere gli altri al lavoro, essere lì accanto, partecipe e magari interagire con queste persone piuttosto che qualsiasi tipo di video, di corsi e quant'altro. Andare in studio è uno dei momenti migliori per poter imparare a lavorare, quindi può essere anche funzionale al crearti il tuo studio. Ci sono talmente tante alternative disponibili, ci sono centinaia di migliaia continuamente di strade possibili che la migliore potrebbe essere quella di vederne una che si sviluppa, che prende forma e che dà dei risultati concreti in base all'utilizzo e all'esperienza di altri. Quindi non è detto che il rivolgersi allo studio vuol dire essere contro la creazione di un home studio. E arrivo quindi alla mia opinione personale, che è anche in questo caso il fare un po' di tutto. Cosa voglio dire? Non necessariamente prendere la strada dell'home studio significa non doversi mai rivolgersi allo studio professionale. L'ideale sarebbe avere il proprio ambiente di lavoro che funziona, che ha tutte le sue cose al loro posto, che ha una buona macchina, si sente abbastanza bene, comunque riesce a farti l'orecchio sulla stanza, quindi a capire come suona e perché. Però rivolgersi anche agli studi, soprattutto per le parti che ti riescono meno. Di tutte le fasi della produzione bisogna arrivare a capire cosa ti piace fare e cosa no, cosa ti riesce meglio fare e cosa no, cosa trovi noioso, cosa che cerchi di rimandare il più possibile. Molto probabilmente fare tutto sempre nel grande studio non è una soluzione, non è una soluzione a livello economico, non è una soluzione a livello pratico perché devi sempre dipendere da qualcun altro, dai suoi tempi, dalle sue scadenze, dalle sue intuizioni. Però molto spesso per mixare e masterizzare non c'è niente di meglio di avere uno studio già preparato con delle attrezzature aggiornate e di buon livello e magari un ingegnere che è anche in grado di saperle usare. Molto probabilmente questa è la soluzione. Creare il tuo ambiente, prenderci confidenza, migliorarlo giorno dopo giorno, ma non rinunciare alla carta e alla possibilità dello studio anche per alimentare quelle che sono le tue conoscenze e i tuoi metodi di utilizzo dell'ambiente stesso. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.